Abbiamo capito che internet non può che essere il luogo della libertà e dell'opportunità del risparmio dell'industria, o di relazioni di tipo commerciale. Che sia l'occasione per avere su questo una diffusa, e peraltro raggiungerlo nel complesso. Noi vogliamo svolgere una ricrescita, uno spazio di scambio, di conoscenza, di partecipazione. In particolare, il senso importante sia che emerga il risparmio necessario. Da dove partiamo? Molte cose con cui noi ci misureremo con questo. L'incontro di Betta o Maturgico, che modifica il simile, non la si può immaginare a velocità diverse. Io non posso che un confronto tra OTT e Telecom sia una svinta. È un accordo tra le grandi realtà come fattore di straordinaria opportunità. Allora, lo dico a tutti i soggetti in campo, l'ha detto forse una volta, il concetto lo dovrà in modo di espansione di sé, se non è l'unico. Quando, ad ogni singolo, la possibilità di agire senza trasformare la rete in un luogo del controllo del governo, l'opportunità della rete con la moneta, della rinuncia alla privacy è questione...